Ciao a tutti, finalmente siamo di nuovo qui al Giglio, mancano due giorni alla partita, noi ci stiamo caricando, abbiamo bisogno di voi, mi raccomando domenica venite tutti allo stadio perché noi sul campo e voi sugli spalti lotteremo e lotterete fino alla fine per portare a casa altri tre punti fondamentali, mi raccomando noi ci siamo, vi aspettiamo, forza reggia!